Siamo con Francesco Baldassari di Intel. Francesco, cosa ne pensi di CodeMotion e perché Intel è qui? CodeMotion è un evento fantastico per vedere a che punto siamo con la tecnologia su base italiana. È un evento veramente fantastico che consiglio veramente a tutti. Intel è qui per presentare la Intel Developer Zone, cioè tutta la zona dedicata agli sviluppatori su software.intel.com Una stag per CodeMotion Experience